salve a tutti mi hanno detto delle luci mai più fare video di sera ho un personalissimo feedbackatore che becco di suo feedbackatore che mi dà il feedback giusto per quello che realmente serve in questi video se guardo un attimo alla mia sinistra è mia moglie che mi chiede che cazzo fai tutto il tempo in macchina ma vediamo a noi il video di oggi è dedicato a baldini baldini e anche sagramola baldini tutti gli allenatori rompono i coglioni alla propria società sul mercato e tu sei l'unico che si è lamentato perché gli volevano prendere i calciatori noi hanno rinnovato i giocatori di categoria perché la società aveva un progetto è prendere giocatori validi per la categoria la serie b perché intendiamoci il miracolo palermo l'hai fatto tu ma i calciatori erano buoni giocatori ma tu non sei la tua squadra non è minimamente attrezzata a quello che naturalmente non so il catanzaro l'avellino assolutamente no è stato non a botta di culo tu sei un grandissimo allenatore che per colpa della tua testa allenavi in c anzi allenavi alla carrare gratis pur di auto rilanciarti e ci sei riuscito benissimo perché le qualità d'allenatore non ti mancano spero che sto guardando bene non troppo in basso sono neofita e spero neanche distingere troppi denti baldini tutti gli allenatori rompono il cazzo col calciomercato e tu ci va al contrario voglio i miei giocatori i miei uomini e ho capito ma la serie b è una questa qui è una serie a 2 è una serie a 2 e tu sei e tu sei stato troppo troppo arrogante e questa società deve capire che quando un allenatore comincia subito a fare l'arrogante va sbattuto fuori perché un cavolo di ritiro a palermo con 40 gradi è una cavolata assurda però ti hanno messo d'accordo caro baldini ti hanno messo d'accordo ti hanno messo d'accordo e ti hanno pure fatto rinnovare floriano che sta facendo benissimo però la ci voleva proprio di mariano vabbè un floriano così ce lo godiamo però sta storia che dopo ti fai la conferenza stampa in cui dici gruppo non c'è e se c'era il gruppo la regiona finiva 5 a 0 al primo tempo quindi e reggere il tempo un primo reggere un tempo intero contro il torino che gli ha fatto il mazzo al monza che ha straminto il campionato l'anno scorso no straminto non è la squadra che in teoria più forte di tutto il campionato e poi ce l'ha fatta con i playoff all'ultimo momento quindi è una bella squadra eppure quel radinovic radinovic non so quel ragazzo ex marsì è veramente forte buttaro e ci ha provato un tempo a trattenerlo ma poi è straripato ma è grazie al pifero e serie a però buttano in questa categoria ha dimostrato di saperci fare per pierozzi non sarà facile rubargli il posto e quindi a me che cavolo non so che cosa dire a baldini è il suo limite più grande a me da fastidio più tutto il discorso di santa rosaria vabbè hai fatto un grande lavoro io ho visitato lo stadio essertic l'altra volta e anche lui merita una statua fuori perché ha fatto un miracolo perché guidolina altri allenatori avevano una squadra attrezzata la sua no e fare la serie b con una squadra con de rose che ci può stare l'uperini forse era quello del caso però tutto il resto andava andava cambiato sala si vede a differenza con gironne si vede questo natal seraro io lo chiamerò dracula d'ora in poi questo dracula è veramente forte e non è il razzismo perché questo qui è veramente ma veramente forte e poi tutto il resto ovviamente anche lì a vabbè è veramente vediamo le prossime partite quindi cavolo fai è arrivato corini se arriva prima era meglio perché di mariano mi piace tantissimo a quanto pare ho letto che ufficiale il calciomercato lo commenterò solo alla fine e quando spunterà il sito nel sito così è letto su tifosi palermo.it però potrà venire torre grossa con corini e tanti altri giocatori però adesso la società ha messo il turbo e vedo che anche le altre non è che stanno facendo granché non mi pare tra nel venezia ha fatto tanti porte girevoli perché se cede quando una squadra retrocede deve togliere questi ingaggi che sono spropositati per la b assolutamente quindi ciao baldini e ci vediamo alla tua prossima carrarese a questo punto potevi andare a catania tanto non mi offendevo a me che me ne frega meno il catania il vero derby è il frosinone non andare mai al frosinone perché frosinone frosinone culone assurdo ancora questa strada dei palloni in campo ho conosciuto un frosinone onesto a bernie ma che vive in inghilterra a bernie l'ho conosciuto in cui però non si scusava però diceva raga capita quello che un giorno capiterà pure a voi che portiere buttato per terra e voi segnate allora dirò siamo pari però di chiedere scusa non se ne parlava neppure io solo una cosa gli ho detto ma tanto se salite in serie a scendete subito e lui mi ha detto è vero però lui ci ha preso dalla serie d anzi forse anche le peggio e ci ha fatto vedere la ci ha fatto pure lo stadio quindi tutti zitti costirpe e la muto ero muto non come noi che siamo la quinta città d'italia per numero di abitanti siamo formiche che cazzo offre palermo rispetto a genova rispetto a venezia che infrastrutture offre che civiltà ma questo è un altro discorso sagramola sagramola è diverso i direttori sportivi non lavorano mai in coppia ricordo marino marino andò via subito quando arriva un nuovo direttore sportivo maldini e massara lavorano insieme ma sono nati insieme cioè lui faceva i settori giovanile maldini pure ma poi si ritrovano assieme tutti insieme appassionatamente si sono scelti tra di loro quindi sono come francheciccio non li puoi dividere ma due direttori sportivi come zamagna zamagna e questo qui come si chiama sagramola ho detto sagramola più castagnini volevo dire volevo dire castagnini zamagna e castagnino sagramola anzi sagramola ne approfitto per dire grazie di tutto perché se abbiamo ceduto al city group è grazie alla sua grande gestione ma nessuno sape perché appello è sempre stato sulle scatole a tutti non lo so il perché quello che posso dire grazie rinaldo sagramola grazie veramente nessuno ti capisce quello che hai fatto non lo capisco neppure io perché l'amministratore delegato non è una cosa che ci competano i comuni mortali è vero pure che se c'è se c'è questo city group penso che sia anche grazie a lui anche ha mantenuto ha fatto l'amministratore delegato ha gestito una società dopodichè castagnini ho detto sagramola castagnini non lo rifaccio il video castagnini è stato un grandissimo direttore sportivo e che col cambio di proprietà purtroppo con questo nuovo zamagna non poteva lavorare ma nessun direttore sportivo ha detto prima lavoro ma neanche gli allenatori penso quando la san pedaglia prese zenga e poi ci ha messo carli come vice duro poco assunto dipendevi carli non ti piaceva troppo zenga zenga è stata trovata parlo per la san pedaglia qualche anno fa due personalità così forti non possono lavorare insieme se sono poi esperte nel settore quindi niente baldini ricomincia dalle serie minori divertiti fai divertire comprati una casa pure la vedi tu cosa devi fare il santo patrono organizzati a perché ho comprato la casa di zeman ho letto divertiti bravo e nulla merita tutta la nostra stima anche se a livello umano vabbè però è fatto così ci ha regato la serie b che io neanche ci credevo fino al giorno dopo e prezzo da pagare va bene che la società comunque al portafoglio ha preso un grandissimo allenatore come corini e ora gli sta facendo una squadra come vuole lui e lui è stato chiaro corini in conferenza stampa qua c'erano 5 6 giocatori ma il problema è che la forbice tra playoff e salvezza è veramente corta perché è una a due ditemi voi quali sono le squadre cuscinetti io pensavo il crotone ma ha vinto la prima quindi farvi capire non le vincerà tutto però io qua squadre cuscinetto non ne vedo forse l'unica è su tirolo perché ha cambiato in corsa con zauli e non ha fatto questi di rilievo forse questo ma i posti sono tre mi pare il retrocessione mi pare quindi lascia stare quinta città d'italia palermo la quinta città d'italia sticato no e il problema è che ci dobbiamo salvare prima infatti quando una proprietà dice siamo in serie b primo anno mantenimento non è una bestemmia perché primo anno pensa a salvarti poi a salvarti se arrivi ai playoff e vinci meglio per dire mantenimento la società magari diceva metti corona in attacco perché non dobbiamo vincere per te che corona merita mi viene andato in prestito a quanto pare sia ufficiale segre che finché l'ufficialità non arriva non possiamo essere sicuri finché corona al torino in prestito e quindi niente cosa possiamo dire vediamo come va e già io non vedo l'ora della prossima partita un abbraccio ciao